Dopotutto, dentro il concetto della politica c'è un'esperienza dello spazio, un modo di pensare allo spazio e che forse il modo di pensare allo spazio è più antico e radicale che non il modo di pensare al tempo. Vanno insieme, non si pensa l'uno senza l'altro, non di meno l'esperienza concettuale e politica dello spazio è importantissima. Non soltanto, ecco, secondo passaggio, non soltanto nella nozione attraverso la figura dello spazio imperiale, universale, che corrisponde alla esigenza che il tempo venga tenuto sotto controllo, ovvero l'esigenza che l'asse del mondo, già pericolante, non si spezzi del mondo. Non soltanto in questa concezione della cui ultima manifestazione è evidentemente l'ambleto di Shakespeare, che si lamenta del fatto che l'asse del mondo è spezzato. No, non c'è bisogno di pensare solo in questi termini. Per vedere l'importanza dello spazio nella politica, basta prendere l'importanza dello spazio più prevalente rispetto all'importanza del tempo, in questo caso, basta prendere per l'appunto Platone. Platone è il Platone della Repubblica. Nel Platone della Repubblica c'è un'idea che la politica è priva in sé. Quando è lontana dal sapere, quando è afilosofica, la politica non è altro che un insieme di poteri in conflitto fra di loro, cioè di forze sregolate, che a un certo punto Platone definisce apeiron, cioè prive di confine, che tendono a sconfinare. È un altro modo per dire che la giustizia è l'utile del più forte, finché non arriva la filosofia, evidentemente. E lo spazio che cosa c'entra? Lo spazio consiste, è un'esigenza, cioè nel fatto che la politica consiste nel portare metron, misura. Questa non è soltanto una metafora spaziale, perché il sapere passa attraverso una spazializzazione che è evidente nel VII libro della Repubblica, nelle due grandi immagini di cui Platone si serve per spiegare qual è il rapporto tra il sapere e la politica. Le due grandi immagini entrambe ci dicono poco del tempo e molto dello spazio. Sono l'una l'immagine della linea, la linea delle diverse discipline, la ratio studiorum, che sono discipline che hanno come conseguenza una trasformazione dell'anima dello studioso che va dal basso verso l'alto e poi, una volta arrivati in alto, un ritorno verso il basso. E qui, l'altra immagine è la caverna, che è la stessa cosa, cioè non coincide perfettamente, ma insomma è concettualmente la stessa cosa, è un movimento da un basso verso l'alto con ritorno. Un movimento che è un movimento spaziale, per l'appunto. Ora, non solo sono due metafore spaziali attraverso le quali si descrive la cosa più importante, cioè come si trasforma la politica dall'apeiron in metron. Ma nella linea, cioè nella ratio studiorum, a un certo punto, presto, dopo la matematica, alla quale curiosamente Platone dà un valore soltanto tecnico-strumentale, cioè la matematica serve ai filosofi, perché si parla qui della ratio studiorum dei filosofi, per diventare filosofo, dopo che ti hanno scelto sulla base teleogenetica di quel che vogliamo, devi studiare. E studiando devi cambiare la tua anima, perfezionarla, raffinarla. La matematica è importante, ma insomma ha un valore strumentale, serve a farla a guerra, sostanzialmente, a calcolare tutto quello che va calcolato nella guerra, perché il filosofo fa la guerra, tra l'altro. Fa anche di più, ma insomma nasce da coloro che fanno la guerra, dai filarches. Dopo, subito dopo la matematica, si incontra la scienza dello spazio, ma nel senso proprio del termine, la geometria. E la geometria ha un ruolo impressionante in Platone. La geometria piana e poi la geometria solida, che poi si proietta nell'astronomia. Ora, questo ruolo è indicato da questa definizione. La geometria è tua eontosgnosis, è la conoscenza di ciò che esiste eternamente. Lo spazio è misura, stabile, conoscibile. E la politica passa attraverso, è un'azione, la politica è agire ad opera dei filosofi che portano la misura nella città attraverso la paideia, cioè attraverso l'educazione delle anime di tutti i cittadini, ciascuno secondo la propria natura, e perché i filosofi trovino la loro capacità di conoscere e di agire, devono essere addestrati alla conoscenza delle proprietà solide, delle proprietà immutabili, eterne dello spazio. Devono essere geometri. Sul portone dell'Accademia stava scritto Agiometretos Medeis Aisito. Non entri qui nessuno ignorante di geometria. Eh, questo è lo spazio. E voi mi direte, beh, il tempo è altrettanto importante in Platone. Direi di no. Direi di no perché non vi è in Platone un tempo del progresso né un tempo della decadenza. Posso affermare questo perché la descrizione opportunamente analizzata, la descrizione della decomposizione della Callipolis ci fa capire che Platone non pensa a questa decomposizione in termini cronologici, cioè come se fosse esistita all'origine dei tempi la Callipolis e poi a causa degli errori di accoppiamento e dell'imbastardimento dei ceti dirigenti poi si fosse perduta quella purezza iniziale e si fossero formate le successive ondate di deformazione della Callipolis, cioè la timocrazia, la oligarchia, la democrazia. Non è una descrizione di una storia, è una descrizione di una possibilità sempre presente. Non c'è un ordine del tempo o un disordine logicamente conoscibile del tempo a sostenere la politica di Platone. La politica si dà nel tempo, certamente, ma il tempo non la sorregge. E così la costruzione della città è una costruzione che non passa attraverso una progettazione, ma è una concrescenza di funzioni. Si passa da una città povera, la città dei porci, alla città del lusso. La città del lusso fa la guerra, dalla guerra nascono i filaches, cioè coloro che non soltanto vivono nella città, ma sono disposti a morire consapevolmente per essa. Questa non è la descrizione di un telos della città, non è la descrizione di un progresso, è la descrizione di un organismo e delle sue caratteristiche. Non c'è un'idea di tempo come vettore della politica. Il vettore della politica, semmai, è lo spazio. Non a caso è la qualità dello spazio a governare la differenza tra stasis e polemus. Quella che nel libro quinto viene individuata, come la differenza fra la guerra verso chi è esterno e la guerra intestina, la guerra interna, polemus e stasis. Attenzione, l'esterno qui in Platone è un punto fondamentale. L'esterno in Platone non è l'esterno di Hobbes. L'esterno di Hobbes è uguale all'interno, è un altro stato, uguale allo stato. L'esterno di Platone, invece, è una qualità differente degli uomini che abitano uno spazio qualitativamente differente. Quelli sono i barbari. Non ci dobbiamo spaventare di questo. Il pensiero greco è un pensiero al tempo stesso universale e fortemente identitario. I greci pensano a se stessi come diversi dagli altri, a volte rispettando gli altri come loro padri, pensiamo agli egiziani, a volte disprezzandoli come i barbari del nord, degli sciti, a volte temendoli o tentando di entrare in rapporti utili con essi, come i barbari persiani. Ma insomma, l'idea della differenza è fortissima, ed è una differenza spaziale che è una differenza qualitativa dei soggetti. non dicono noi siamo più progrediti, dicono noi stiamo in uno spazio che è nostro e che abbiamo abitato per primi. Siamo autoctoni. Grazie a tutti.